che freddo sembra di essere un polaretto e buongiorno a tutti allora tennisti e tenniste ben trovati in un nuovo video e oggi torneremo con le reaction ai miei allenamenti alle mie ore di gioco chiamatele come le volete comunque ho incredibilmente trovato il modo per rifare i video di questo genere visto che gli ultimi che avevo fatto non stavano andando male le visualizzazioni non erano male nei commenti eravate molto attivi i like c'erano e quindi ho detto beh perché non riportarli io vi diverto per me giocare a tennis è sempre stato un enorme divertimento ho detto perché non riprovare a portarli e quindi oggi proveremo a guardare il mio ultimo allenamento abbiamo giocato sul veloce indoor al centro giovanile a bassano del grappa che è un campo un po strano perché comunque è un campo cui la superficie deve essere veloce ma in realtà non lo è è un cemento un sintetico molto molto lento nonostante sia comunque indoor quindi insomma ci vuole tanti tante velocità di piedi ma neanche troppa piccola introduzione prima di passare alla reazione del video fisicamente good very good e sapete secondo me qual è stato quel qualcosa in più dal punto di vista fisico secondo me è stato comprare i prodotti di vitastrong vitastrong infatti produce proteine creatina vitamine barrette proteiche pre workout aminoacidi tutte cose che vi fanno bene che vi servono per le prestazioni in palestra per le prestazioni in campo da tennis nella vita di tutti i giorni per raggiungere il vostro fabbisogno calorico proteico vitaminico durante l'arco della giornata se usate il mio codice sconto tennis 20 riceverete 20 per cento di sconto su tutti i prodotti di vitastrong oltre ad aiutare il canale ho visto che qualcuno di voi ha già comprato qualcosa vi ringrazio grazie mille se comprate col codice sconto scrivetelo in direct su instagram vi lascio sia il mio profilo privato sia il profilo del canale in modo che possiate iscrivervi quando farete un acquisto io insomma vi annuncerò nel video comunque vi farò un saluto nel video se vi può far se vi può far piacere e detto questo ragazzi sigla e poi iniziamo ciao e allora eccoci qui a reagire al video nel mio allenamento partiamo subito con un palleggio tutto il video sono fatto di palleggio ho preso gli scambi un po un po più belli insomma gli scambi non sono lunghissimi perché essendo sul veloce ovviamente la palla corre di più e difendersi è molto più difficile comunque vedete come giacomo che è stato in realtà la prima persona comparsa su questo canale perché il secondo video vede proprio giacomo giocare con me e poi non si è più visto però insomma jack è il mio migliore amico e io li giochiamo spesso e volentieri insomma comunque vedete un po come stiamo giocando jack quel giorno lì non stava giocando benissimo nonostante comunque lui sia più forte di me assolutamente però quel giorno lì sta facendo un po di fatica forse era un po stanco fisicamente io comunque dal lato del dritto ho giocato molto bene quel giorno era molto pulito mi sentivo bene in fiducia infatti qui spingo jack tiene me la diagonale di rovescio comunque non me la sentivo male e vedete come ha detto riesco a imporre il mio gioco jack se vi ricordate anche se dubito è più forte di rovescio che di dritto infatti io con lui cerco molto spesso di stare sulla diagonale del dritto nonostante io preferisco giocare in realtà di dritto inside out sul rovescio dell'avversario quindi vedrete soprattutto con jack come io cerco di giocare sul dritto perché so che dritto contro dritto io sono più forte qui un attimo di show time io provo un pallonetto sotto le gambe un po così poi a vedere sbagliato da lui e insomma parliamo magari un po adesso del gioco in sé vedete come io cerco di stare più sul suo dritto perché so che lui fatica qui pallonetto orrendo grande jack lui gioca a palla carica sul mio rovescio io riesco a anticipare bene smorza io sono lentissimo e qui mi infila bene gran passante di rovescio incrociato io ho preso completamente in contropiede non me lo aspettavo andiamo avanti qui col dritto riesco a muoverlo molto bene e vedete come di dritto faccio un ritmo qui spingo peccato per il nastro che mi blocca il vincente però poi vengo avanti la palla tocca sulla struttura e quindi ovviamente è punto mio andando avanti qua sparo un rovescio fuori di sei metri perché ovviamente sono sempre messo bene con i piedi io sono una gazzella in campo e qui questo è un gran bel anticipo di dritto andando incontro alla palla copiandola mentre sale difficile come colpo perché ci vuole un gran bel tempo però colpito veramente bene qui spingo benissimo di dritto lui non si sa come fa queste due difese clamorose che passano un millimetro dal nastro e poi mi passa lungolino con questo back clamoroso jack che come vedete il back non è che lo senta proprio benissimo non è proprio il suo colpo migliore però in quel frangente lì mi ha completamente uccellato andiamo avanti qui uso bene il rovescio lungolinea vengo avanti col dritto lungolinea e qui non ci può fare niente insomma mi avesse passato anche così probabilmente avrebbero trovato la scelta su marte punto dopo io ovviamente sbaglio di rovescio comunque continuiamo a giocare back interlocutorio per non dire orrendo centrale spingo di dritto e lui non non regge non regge il confronto con con il detto qui sbecco bene io e vedete come jack fa fatica fra tanta fatica mi ricordavo così tanto comunque vedete come ci sono dei colpi in cui io sono più forte e altri invece dove lui è molto più forte di me qui spingo bene di dritto ma spingo sul rovescio quando si spinge sul rovescio di jack riesce ad appoggiarsi da dio e infatti si vede qui mi fa un regalone incredibile perché ormai il punto era vinto però quando tirate forte se per caso lo troverete in torneo o comunque se troverete giocatori come lui occhio a spingere piatto sul loro rovescio perché in anticipo in appoggio giocano molto bene quindi rischiate di essere presi in contropiede di occhio infatti io cerco di solito di giocare o una palla carica sul suo rovescio oppure di spingere sul dritto qui sassata di dritto questo è sempre stato un colpo che mi è sempre riuscito abbastanza facile nonostante sia un colpo abbastanza difficile un dritto polla del potro che arriva in corsa chiude gli occhi e spara tutta mi è sempre riuscito abbastanza bene qui gioco profondo sul suo dritto sbecco lungo per tenerlo dietro qua sono lentissimo con le gambe per fortuna che lui non è più veloce di me e qui sbaglia il passante è arrivato un po un po coi passi lunghi non è stato velocissimo il punto dopo vediamo come io comunque di rovescio quel giorno lì c'ero di dritto ero bello in fiducia qui spingo bene peccato che comunque dopo vedete la palla va fuori però continuiamo a giocare perché sennò avremmo dovuto interrompere il gioco mille volte qui jack tira un back che neanche sua nonna probabilmente avrebbe sbagliato prova a spingermi sul rovescio io in appoggio di rovescio gioco bene faccio molto di fatica con le palle alto le palle morte ma in appoggio in anticipo gioco molto bene il solito sempre per il livello di un terza categoria ovviamente ovvio che se prendete un seconda categoria e qua sgranata di dritto clamoroso ovvio che se prendete dicevo il rovescio a mano di un seconda categoria ovviamente in anticipo giocherà sicuramente meglio lui di me se proviamo a fare un cesto in anticipo di rovescio sarà sicuramente più forte di me questo non lo metto in dubbio però a livello di terza categoria insomma il rovescio in anticipo mi esce abbastanza bene peccato che ho sempre paura di giocarlo e quindi lo gioco poche volte qua grandissimo dritto incrociato in corsa e poi il nastro dice di no al mio rovescio peccato peccato questo dovrebbe essere credo credo l'ultimo punto si vedete jack per fortuna quel giorno lì non era messo bene fisicamente infatti vedete come un po lento sulle gambe anche quando può giocare in top di rovescio gioca sempre in back qua spingo molto bene forte di dritto e lui sbaglia il passante come vedete ragazzi fisicamente ci sono bisogna migliorare ancora tantissimo l'esplosività perché comunque adesso sto cercando di prendere peso se non l'avete visto infatti sto facendo una serie sulla road to 80 chili perché voglio riprendere peso quest'estate sono dato magrissimo perso tantissimi muscoli è vero che forse ero più veloce perché ero molto più leggero però mi vedevo proprio brutto mi vedevo magrissimo adesso cercando di prendere peso e ovviamente il mio corpo stando quasi 5 6 mesi a 69 70 kg adesso tornare vicino agli 80 non è facile muovere quasi 80 kg non è più semplicissimo come una volta soprattutto perché comunque non faccio preparazione atletica e quant'altro quindi è un po' difficile e poi sul gioco ho giocato bene prima di questo video l'avevo fatto un altro che però non ho pubblicato perché le riprese erano andate un po' da schifo e che però lì non avevo giocato molto bene eravamo in tre quindi era difficile tenere il ritmo perché in tre giocando un punto a testa il ritmo continua a spezzarsi quindi non si colpiscono mai tante palline e infatti non avevo giocato molto bene e invece qui devo dire che sono abbastanza soddisfatto ho provato due o tre servizi e il mio unico problema è che quando spingo tiro fuori di sei metri lungo perché o la prendo bassa oppure mi concentro troppo sul tirare fortissimo e non chiudo bene la mano non faccio bene la chiusura qui ma vado via dritto come un treno la palla esce sì probabilmente a 210 all'ora però va sulla linea di fondo praticamente fuori di tre metri e mezzo e per il resto comunque sono abbastanza contento vediamo se con il rinnovo a dicembre delle tessere fit io deciderò di rinnovare la tessera fit dopo ormai tre anni e mezzo quattro anni sì che non rinnovo la tessera fit però devo dire che mi sta tornando un po la voglia soprattutto per i tornei quarta categoria con monte premi dove non dico che per me sono soldi facili però insomma sicuramente più semplici di andare a giocare un terza categoria perché oggettivamente adesso io se dovessi rimettermi un attimo in forma con il fisico potrei valere ancora un 3 3 sì 3 2 3 1 sarebbe molto difficile più che altro perché andrei a giocare con gente che probabilmente si allena 3 4 volte settimana quando invece se gioco un'ora settimana è già tanto quindi lì sarebbe molto difficile mentre qui guardo la categoria a meno che io non trovo l'ex che ne so l'ex 2 6 che è sceso e ha 40 anni e 4 1 però è un fenomeno non dovrei avere troppi problemi quindi devo insomma devo decidere queste cose detto questo ragazzi il video è finito io spero che vi sia piaciuto commentate se volete ancora video di questo tipo perché io mi diverto un sacco ragazzi a registrarmi mettere gioco anche perché dopo mi guardo tutti i punti cerco di analizzare i migliori li metto su tiktok andatemi a seguire su tiktok e anche su instagram perché lì vedete un po i punti migliori che faccio detto questo teniste teniste buon tennis a tutto a tutti il video è finito ci vediamo nel prossimo video ciao